Mio nipote arriva tra qualche giorno da Milano. Da Milano mi fa piacere. Azzate la mia figlia e ci passate non guardate. Conti o baldicaccio, ma il mio nome solo è Enrico, per servire. È un spettacolo bellissimo, con un massimo, un bravissimo. Il nostro paello è un po' che non vende, figli di figli di religio, secca il reddito, un alto duro stavolta. Ma non vedi che vieni più per guardare, quella donna Paolina Bonaparte. Riesce a cambiare l'atmosfera con uno sguardo, un sopracciglio, un'occhiata, una giratina di testa, una capacità enorme di comunicare le atmosfere con un niente. Ma dovrete vivere? Lontano da casa nostra, a volo se vuoi mandare! Il testo è davvero un film, dal teatro vero, insomma, perché poi il teatro è questo, non è che... È vedere i film e senza i sordi devi fare i film. Viva Pio VII, viva il Santo Padre, viva il Papa... Si vede Roma, si vede il periodo, si sentono le voci, si sentono addirittura i rumori dei passi sui San Pietrini. Com'era bello questo suono. A storia non c'era mai stata. Molto bella la musica dal vivo, l'idea, i particolari strumenti, bravissimo lui. Ovvio, ovvio, evidenziamo con questa vostra bocchiera le ben così invadente. Veramente, e ogni volta con un linguaggio diverso e con un'espressione diversa, è eccezionale. E' straordinario, mi lascia un solo sentimento, l'invidia profonda. Non avere nulla, sono due musicisti e la sua capacità di attore è straordinaria, veramente. E devo dire un bravo proprio all'autore per la parola. La parola è una parola nobile, alta, bellissima, una bellissima vangina di lei. Viva signora! Viva l'Italia! Viva l'Italia! Viva la libertà! Viva la parola mio!